E questo è il momento sempre emozionante della nascita, in qualunque modo la facciamo. Già la testolina di Arianna, togli la valva, adesso il collega spinge un po' sulla pancia, Arianna è nata anche con un giro intorno al collo, la liberiamo e la sentiamo già chiamata, ma è complicata, perché il cordone si era tutto attorcigliato intorno al collo, ed ecco Arianna. Auguri anche a Pabella! Anche a tutti voi auguri! Spinge un po' di te, spinge un po' di te, il peggio da te, il peggio da te, il peggio da te, il peggio da te. Vieni, vieni papà! Vieni, vieni papà! Non lo so, non lo so. Allora, l'altra parte, è ancora un paese. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Amore, cucciola, cicciola. Amore. Amore. Pocciola, cicciola. Amore. Piccolina. Ticcolina. No, amore. Amore, cuciola, cicciola. Amore, papà, comulio che non... Finzani, piccolini. non sai che non l'ho visto basta 3.050 grammi la tieni qui mi raccomando ah ecco eh Arianna amore Arianna no cucciolo mamma mia pronto grazie sto qui al terzo piano grazie scusi ora ci facciamo un attimino una metri la metri le noti il protoculturale ha avuto un luogo in questa vicenda vero eh marginale Arianna fai un bel sorriso grazie hai mai rappresentanza delle forze dell'ordine eh sì ci vuole forse eh tanti auguri grazie Arianna l'ha chiamata sì Arianna in onore a chi nonne qualcuno vedi che posizione riflessiva che c'è non mi metto riprendi dai pugni è una bambina strepitosa eh eh strepitosa eh guarda che roba ci si accanteva tanti auguri signora grazie anche a lei tanti auguri grazie anche a lei allora sposate eh si auguroni Franco fai un sorriso alla telecamera che stasera abbiamo prodotto beh abbiamo fatto un bel capotavoro mamma 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 però a proposito di capotavori c'è l'artista qua eh eh certo eh eh sì anche il papà ci vediamo dopo signori eh abbiamo notte verita grazie buon anno Grazie per la visione!